11 ritardo a sinistra 3 più 20 imposta a destra 2 tonda 50 ritardo a sinistra 3 subito tornante a sinistra la seconda 100 imposta a destra 3 meno 2 tempi in sinistra 2 molto tonda 30 semi tornante destro sasso in ritardo a sinistra 2 molto tonda 100 sinistra 4 più in imposta a destra 4 apri in sinistra 3 lunga 10 semi tornante destro 30 destra 2 meno in tornante a sinistro 100 sinistra 2 meno tonda in tornante a destra largo 100 100 in posta a destra 2 meno 20 ritardo a molto sinistra 2 apri 200 200 200 alle frecce tornante destro 20 ritardo a molto sinistra 2 tonda apri vai per 100 vai per 100 alla pianta fidati sinistra 3 in destra 3 20 alle frecce tornante a sinistro vai per 100 imposta a destra 3 più 50 al cartello tornante destro vai per 150 a destra 4 più 30 destra 3 bivio 100 destra 4 più 150 destra 4 in sinistra 3 meno meno lunga 100 al rail destra 2 meno tonda 30 destra 3 in sinistra 2 meno meno 20 sinistra 3 sconnesso in destra 3 due tempi chiude in sinistra 3 20 sinistra 3 20 destra 4 chiude 3 in sinistra 3 più due tempi 100 stai a destra buche destra 4 100 si imposta a sinistra 3 meno meno vai per 150 dopo il cartello destra 4 100 al palo sinistra 5 meno in destra 5 in attenzione sinistra 5 30 stai a sinistra chicane occhio 100 destra 4 meno in sinistra 4 100 al cartello sinistra 3 meno in destra 2 meno griglia 30 ritardo a sinistra 2 meno tonda ok ok 4 sì quello che ti ho detto buono dai un po' 2 1 2 1 1 2 1 2 Grazie.